... La posizione del Comune mostrata è la seguente, se volete capire. Noi abbiamo pagato il mese di gennaio la luce d'ambiente prima dei 15 giorni. Ma c'è certa, non è vero non è vero, mi aspetta quando lei ha parlato sviluppo... ma è vero è un gianto quindi noi non siamo inadempietti nei confronti di nessuno perché la rota metà non accretta nulla da noi abbiamo spagato in maniera tale prima dell'assurance dei 15 giorni Di maniera tale che avvi anti pagasse gli un dipendente invece di internare io, sa che ha proprio permetato. C'è una cosa, ma che cosa c'è? C'è una cosa, ma che cosa c'è?